Va ora in onda, Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Nei prossimi sette anni lo Stato metterà a disposizione di regioni e province autonome 7 milioni di euro da destinare ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Si aggiungeranno poi 2 milioni di euro di provenienza regionale che portano il budget complessivo per la messa in sicurezza del territorio italiano a circa 9 miliardi di euro. Entro due settimane le regioni dovranno indicare al governo le loro priorità sugli interventi strutturali da realizzare con la massima urgenza. Per questo il presidente della regione Abruzzo, D'Alfonso, ha chiesto una mappa dei primi urgenti interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Abruzzo. Scatta foto alla retina del bimbo nato prematuro, rileva con un solo test l'eventuale danno ed il rischio di cecità. E infine può inviare per via telematica, cioè via internet, ad altri ospedali le immagini per un consulto in tempo reale. Sono le prestazioni della Redcam, l'apparecchiatura di altissima tecnologia in funzione da ieri all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, grazie alla donazione da parte di Sky. Ogni anno il reparto di neonatologia del nosocomio aquilano tratta 103 casi di parti prematuri. Il direttore generale dell'Arta, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, Mario Micone, ha firmato la delibera di risoluzione per giusta causa dell'incarico di direttore amministrativo conferito il 31 gennaio 2012 al dottor Luciano Di Odoardo e rinnovato il 28 marzo scorso. Il provvedimento può essere consultato nell'albopretorio online sul sito www.artaabruzzo.it. Sono molto dispiaciuto per l'accaduto, dichiara il direttore Amicone, e spero che Di Odoardo riesca a dimostrare la sua totale estranità ai fatti che gli vengono contestati. Di Odoardo è coinvolto in un'indagine su presunti posti di lavoro promessi ma inesistenti all'Università di Chieti. Autunno, tempo di funghi e purtroppo anche di intossicazioni alimentari derivanti dall'imprudente consumo di questi gustosi ma insidiosi prodotti della terra. Al distretto provinciale Arta dell'Aquila è attivo dal 2006 uno dei tre centri di riferimento regionale abilitati dalla legge del 2010 a cooperare con le ASL per la prevenzione e il contrasto delle intossicazioni da funghi. I documenti utili sono sul sito www.artaabruzzo.it. Auspicò che l'impegno e la tecnica dei nostri corpi militari riescano il primo possibile a ricondurre Giovanni e Massimiliano all'affetto di chi li ama è uno dei passaggi della nota di cordoglio che il presidente della regione D'Alfonso ha indirizzato alla famiglia dei due giovani alpini che hanno perso la vita sul Gran Sasso. Esprimo a nome dell'intera comunità abruzzese e mio personale, scrive il presidente, il cordoglio per la morte dei giovani alpini Giovanni De Giorgi e Massimiliano Cassa. La trasparenza amministrativa come antidoto alla corruzione e alla cattiva amministrazione è la linea di intervento messa in campo dai governatori pubblici per contrastare la possibile corruzione in materia di appalti, incarichi, concorsi e affidamenti vari. A questi argomenti è dedicato il corso di formazione organizzato per giovedì alle 9 nella sala polivalente del comune di Ripa-Tiatina. L'incontro organizzato dal comune di Ripa-Tiatina con quelli di Villamagna, Crecchio, Canosa, Sannita, Giuliano Teatino, Pretoro, Rocca, Montepiano e Tollo è rivolto ai dipendenti degli stessi comuni. È stato occupato a Pescara dagli studenti l'Istituto di Istruzione Superiore Misticoni-Belisario. Il Liceo Artistico e l'Istituto d'Arte hanno deciso di comune accordo di proseguire la mobilitazione contro il progetto di riforma della scuola pubblica all'interno delle loro aule. Ci siamo riuniti diverse volte nei giorni scorsi e siamo arrivati a questa decisione, dice la rappresentante d'Istituto del Misticoni, Flavia D'Alfonso. Abbiamo anche informato la preside, non possiamo più attendere altro tempo e c'è bisogno di far sentire la nostra voce. Non siamo i soli a Pescara a nutrire perplessità sul progetto di riforma del governo. Ma i ragazzi dell'Istituto Aterno Mantonè, sempre a Pescara, fin dall'inizio hanno accolto con entusiasmo il piano sulla buona scuola del governo. Non abbiamo partecipato alla manifestazione di venerdì, spiega la rappresentante sindacale Brigida Ruggeri, perché siamo convinti che la proposta di Renzi sia positiva, poiché prevede incentivi sull'alternanza scuola-lavoro e investimenti che vanno a nostro vantaggio. Per questo non ci sarà alcuna mobilitazione nella nostra scuola. Da domani fino a venerdì a Pescara è istituito tramite ordinanza il divieto di transito, sosta e fermata lungo il tratto di via Volta, compreso tra l'intersezione con via Inaudi e l'incrocio con via Lago Sant'Angelo, dalle 7 alle 17 dei giorni indicati, cioè da domani fino a venerdì. Il provvedimento è necessario per agevolare i lavori di allaccio fognario nella zona che si trova davanti alla chiesa del Beato Nunzio sul Prizio. In caso di maltempo il divieto sarà rinviato al primo giorno utile successivo alla data stabilita. Croci mortuari e sono state poste nella notte davanti al Palazzo Comunale di Pescara dal movimento Casa Pound Italia per protestare contro l'elevata pressione tributaria. Non riteniamo di esagerare, spiega in una nota il responsabile locale del movimento Mirko Iacomelli dicendo che Pescara sta letteralmente morendo di tasse dopo l'imposizione della Tasi con aliquota al 3 per 1000 una delle più alte applicate in Abruzzo e di questi giorni l'arrivo delle bollette per la Tari. Ebrei ed islamici per la pace, questo è il titolo della tavola rotonda organizzata dall'Arcidiocesi di Pescara Penne al Teatro Sant'Andrea di Pescara, giovedì alle 18. Il dibattito, moderato da Don Achille Villanucci, responsabile della pastorale per il dialogo religioso, accoglierà gli interventi di Cesare Moscati, rabbino della comunità ebraica di Roma e Mustafa Azenap Aydin, sociologo delle religioni. Ammond e Bal si intitola così la raccolta di poesie in vernacolo abruzzese con vocabolario abruzzese italiano dei singoli componimenti redatto da Giuseppe Parisio. Il volume sarà presentato venerdì 28 novembre alle 17.30 nella sala Figlia di Iorio della provincia di Pescara. E Giancarlo Magalli sarà di nuovo in scena per l'Unitalsi, accadrà sabato al Teatro Super Cinema di Chieti alle ore 21. Nell'occasione, partecipando appunto alla rappresentazione del dramma comico, scritto diretto da Pierfrancesco Pingitore, La botta in testa, si potrà vincere acquistando un biglietto, un viaggio a Lourdes. Meteo stasera su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con temperature da 12 a 13 gradi e venti da deboli a moderati. Domani si prevede cielo sereno con temperature da 9 a 17 gradi e venti deboli. Il mare è previsto poco mosso sia stasera che domani. Era l'ultima notizia per quest'edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, una tascia in regia. E da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.